Questo è il secondo anno con GiocaMondo e quest'anno ho deciso di venire in Irlanda. Mi sono trovata benissimo da subito, ho fatto tante amicizie. Il posto che mi è piaciuto di più quest'anno è stato sicuramente il centro di Dublino, in particolare Temple Bar per i tipici pub irlandesi che creano un'atmosfera bellissima. Ci sono i tempi spieghi. Our carefully selected venues in modern universities and traditional colleges offer a perfect environment for youngsters. Elements such as interactive whiteboards, IT facilities and disabled access are common among our top quality locations.